Emilia Romagna frammenti di Novecento di Giorgio Falco. Sei in Lombardia? No, non avete sbagliato capitolo e neppure un errore di stampa o un improvviso disorientamento del mio cervello. Questo non è il capitolo sulla Lombardia, questo è proprio il capitolo dedicato all'Emilia Romagna. La scritta del cartellone Sei in Lombardia l'osservo sempre, sulla destra della carreggiata autostradale, come se fosse la conferma di uno di quei confini di solito quasi invisibili, che non necessiterebbero nemmeno di un cartellone, poiché comunque esistono. Confini sanciti da elementi naturali, un fiume per esempio, o che si percepiscono nell'aria, come il modo in cui la luce cade sui mattoni scrostati di un vecchio casolare disabitato, rimasto intrappolato assieme a un pezzo di terra incolta tra la ferrovia ad alta velocità e l'autostrada. Mi accade sulla 1, quando, oltrepassato il ponte sul Po e varcata appunto la linea di confine tra le due regioni, ritorno in Lombardia e mentre guardo quel cartellone ripenso a ciò che ho appena vissuto durante le ore, i giorni, le settimane precedenti in Emilia Romagna. Sono nato in Lombardia e li risiedo, ma da sempre frequento assiduamente, anche per periodi piuttosto lunghi, l'Emilia Romagna. E così, in questi decenni, ho attraversato e vissuto i Colli Piacentini, le città e le cittadine lungo la Via Emilia, e poi Bologna, le due uniche città capoluogo di provincia non ubicate lungo la Via Emilia, ovvero Ferrara e Ravenna, fino ad arrivare all'estrema propaggine adriatica, quella striscia di terra e acqua lunga 130 chilometri, striscia che parte dal confine con il Veneto, il Delta del Po, e arriva a Cattolica, al confine con le Marche. E allora abbandoniamo il cartello 6 in Lombardia, usciamo al primo casello autostradale utile e facciamo inversione di marcia per tornare indietro. La qualsiasità della tradizione emiliana. Innanzitutto il nome, Emilia Romagna. Mi piacciono le parole composte, mi piacciono le parole definite da un trattino, da un minuscolo tratto ancor più breve di una lineetta. Se è vero che un trattino divide due o più elementi lessicali autonomi, è anche vero che li unisce. Capita a volte che l'unione sancita attraverso un trattino possa risultare da un'imposizione politica, amministrativa, fiscale, un'invenzione vissuta come una sovercheria da una delle due controparti. In questi casi, bene che vada, la presenza del trattino manifesta l'artificio per creare qualcosa che prima non esisteva. L'Emilia Romagna non appare come una forzatura, ma la naturale estensione dei due nomi collegati al trattino. Il trattino Emiliano Romagnolo non è quindi un capriccio burocratico, ma è come se rappresentasse la via Emilia, la spina dorsale della regione. Mi piace la solidità della storia centenaria sedimentata nelle città edificate lungo la via Emilia. Eppure amo anche considerare la via Emilia e l'intera regione come un luogo provvisorio, uno spazio mobile di transito in continuo movimento, e non potrebbe essere diversamente, poiché la via Emilia è una delle aree più urbanizzate del continente. Mi piace considerare questo inquieto movimento indispensabile per ricercare qualcosa che non sia soltanto l'esistente, la mera rappresentazione di sé, ma anche qualcosa che si possa manifestare soltanto attraverso l'insistenza dell'osservazione, della nostra continua interrogazione. Non è un caso se in Emilia Romagna, più che in ogni altro luogo d'Italia, abbiano lavorato alcuni tra i migliori artisti fotografi della seconda metà del Novecento, molto spesso americani, ma anche tedeschi, francesi. Questa apertura al mondo ha avuto il progetto pioniere in un paese, l'opera di Cesare Zavattini e del fotografo americano Paul Strand, un'opera diventata il libro pubblicato da Einaudi nel 1955. Un paese era tante cose assieme e niente di definibile, non tanto un reportage e nemmeno un'inchiesta antropologica, quanto piuttosto, come affermato dallo stesso Strand, un film su carta, l'addentrarsi all'interno di una comunità usando uno sguardo etico ed estetico. Zavattini e Strand, ciascuno con i propri mezzi, avevano infatti raccontato il luogo in cui Zavattini era nato, Luzzara, un piccolo centro della pianura emiliana, in provincia di Reggio Emilia. Partendo dal particolare, da un piccolo comune che avrebbe potuto essere un luogo qualsiasi dell'Emilia Romagna e dell'Italia intera, il testo di Zavattini e le 88 fotografie di Strand avevano restituito un'opera caratterizzata dall'epica del fotografo americano e dallo stile del testo di Zavattini, che ricalcava la tradizione orale emiliana, simile a quella che potevamo ascoltare attorno al focolare domestico o in un qualsiasi bar del novecento. Proprio Zavattini aveva coniato un neologismo. Qualsiasità. Qualsiasità non era, non è, l'omologazione dell'esperienza che rende i luoghi, anche quelli emiliano-romagnoli, indistinti e globalizzati, ma al contrario trasforma i luoghi, anche quelli apparentemente anonimi, in qualcosa di significativo, qualcosa di cui prendersi cura per strapparli a ciò che consideriamo spazi abitudinari e privi di interesse. Pappardelle e paesaggi in bianco e nero. Ecco, se c'è una regione, almeno al nord, che conserva qualcosa del novecento, nonostante i molti cambiamenti politici, economici e paesaggistici avvenuti negli ultimi decenni, questa regione è l'Emilia-Romagna. L'immersione nei frammenti del novecento mi capita quando vado a Cesena per far visita all'amico Guido Guidi, uno dei fotografi che, assieme a Luigi Ghirri, ha contribuito a diffondere il paesaggio emiliano-romagnolo all'interno del circuito delle gallerie d'arte internazionali. Vicino all'abitazione di Guido Guidi, una casa ubicata in una frazione di Cesena tra una strada provinciale e l'autostrada A14, c'è uno di quei circoli che in estate ti accolgono con le strisce di plastica sulla soglia, appena mosse da un re folo d'aria, pertuggio per le mosche. Dentro, vicino al bancone del bar spicca un vecchio flipper, le cui palline paiono conservate là da decenni, come pepite preziose. Ma ancor di più, il novecento emiliano-romagnolo, così profondamente italiano, lo vivo quando andiamo a pranzo nel piccolo ristorante raccolto all'interno di un altro circolo, tipica cucina romagnola e prezzi popolari, come si usava a dire un tempo non troppo lontano. La cosa significativa di questo circolo politico è che il partito di riferimento in pratica non esiste quasi più, sebbene all'esterno sull'insegna spicchi ancora il simbolo. E mentre le gusto un piatto di pappardelle o strozza preti, e guardo alle pareti le fotografie in bianche e nero di politici deceduti da decenni, e ascolto in sottofondo il televisore che rimbomba parole insignificanti, parole più morte delle persone incorniciate alle pareti, capisco il motivo per cui stare in Emilia-Romagna mi rende, al tempo stesso, felice e malinconico. La mia affezione all'Emilia-Romagna deriva dal fatto che questa regione è la mia biografia possibile e mancata, è ciò che avrebbe potuto essere e che invece non ho vissuto in un altro luogo, in Lombardia, e nemmeno qui. L'Emilia-Romagna rappresenta per me ciò che è irrimediabilmente perduto, pur non essendo mai stato mio. E tuttavia, continuando a frequentare in ogni stagione, anno dopo anno, questa regione, mi sono educato allo sguardo, alla qualsiasità propugnata da Zavattini. Torno sempre in Lombardia portandomi appresso qualcosa dell'esperienza emiliano-romagnola. Grazie a tutti. Grazie a tutti